ecco qua io non lo voglio fare invece, io spawno delle mushroom perché sono belle non sai cos'è delle mushroom? ecco le mushroom che stigo è troppo bello è il mio è il mio è il mio non puoi averlo allora se allora vuoi le sue carni? ve le prendo io ecco io l'ho perfetto bravo no è mio è mio tu e quello laggiù quello laggiù è tu quello è mio perchè lo uccidono fa la fazziri non capivo la cosa no ok grazie ora non più quella non la fare vedere a un muccio sennò si arrabbia a parte che sei creativo però non lo so ecco le cose della muccio guarda guarda che bello sono che cacchio ne so io sono belle hanno i funghi in testa ecco peccato che non ti posso fare male o c'è un modo per farti uccidere ah non lo so anche io allora vediamo mi nonate non dorme buongiorno muoviamo tutti i letti per non fare casino ok? e prendiamo e manziamo io oggi mando per questo io mi piace quella della pecora ops nooo eccola la carne vaffan giro io ce l'ho non è il mio è una mucca normale la mia invece non lo è solo un pochetto più rossa però quello è della mucca è un pochetto 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 no è banana ecco è banana è banana è banana è banana su porno c'è davvero una skin di banana ma io non lo sono sì però sì però ho scelto una skin di banana la skin di banana la skin di banana ok quando stiamo vicino au 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 sceglie io qui invece sì vediamo cosa posso scegliere nooo non l'ho tolto perché non lo so perché ci sono gli armi niente allora scelgo una io qualcosa posso confermarla non è questa è questa ma che schifo lo so non è un maschio è una pianta è una pianta carnivora brutta scappiamo 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 non è vero scappiamo maio così allora arrivo qui eccomi qua io sono Ajax ecco io sono Ajax uh che bello non è vero no sono una campana ma che schifo ma che schifo di villager è questo no è fatto di foglie che schifo non ho mai visto nessuno di questi schifi ehi fai schifo sei più brutto di tutti no che tutti gli altri sono belli però sei un alieno guarda là c'è quella buona guarda là 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 non sono mai là ah anche qui ops li volevo dare il fiore e dai sono deciso che vai dai comunque ora i golem sono inutili perché ora ci siamo noi che proteggiamo il villaggio ma noi non ci chiamiamo nessuna donna dai dai sai noi andiamo a chiedermota invece di allora tempo non so perché su un'anima c'è una cosa che puoi magari non si può chi se ne frega le mod questa è una questa è una è maica vaniglia 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 eh no questa è maica vaniglia in stile creativa il bag in gusto vaniglia è buonissimo mi piace un sacco poi il cioccolato anche chissà perché non fanno ma svega chissà perché non hanno non hanno messo minecraft minecraft versione cioccolato c'è solo minecraft vaniglia 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 Grazie a tutti.